Oggi andiamo off camera con Davide Moccia. Eccoci Davide, buongiorno, benvenuto in off camera. Grazie, grazie. Allora, ti faccio la prima domanda, che la prima domanda è quella che facciamo a tutti. Chi arriva su questo divano o in altre situazioni si becca questa domanda. Quando ti sei accorto di essere diventato un riferimento per le persone o comunque sostanzialmente avevi acquisito un certo tipo di fama? Allora io, parliamo di 6-7 anni fa, feci un reality, il collegio, non so se si poteva dire. Si può dire, vuoi dire quello che vuoi. Ero piccolino, da lì ebbi già un riscontro mediatico, però la cosa l'accantonai un po' perché soprattutto quando sei piccolino sei molto soggetto magari nel tuo paese a giudizi, a essere giudicato quando sei esposto e quindi io l'avvertivo molto questa cosa e allora ero tipo un attimo titubante su questo mondo, anche se poi era quello che mi ha sempre attratto, la cosa di poter in qualche modo emergere. Io sin da piccolo avevo questo sentore di voler fare una cosa che mi portasse ad espormi e quindi magari a interfacciarmi con il mondo dello spettacolo. Però viverla poi nella realtà è stato diverso e quindi ho avuto degli anni, 2-3 anni, dove proprio io accantonai la questione social e quindi tutto il riscontro che avevo ottenuto tramite il reality. Però sì, effettivamente sin da subito avevo notato che avevo una risposta da un certo numero di persone e poi dopo quei tre anni ricominciai sul fronte TikTok e quindi iniziai poi ad accorgermi veramente che c'erano delle persone che poi mi hanno continuato a supportare, anzi ho raggiunto un pubblico diverso perché poi ero cresciuto. Quindi sì, possiamo dire da subito ho avvertito questa cosa. Hai parlato di TikTok, come ci sei arrivato, come hai deciso di approdare lì? Ma io mi ricordo che sin da piccolo c'era ai tempi musical lì, non so se l'ho detto bene, vabbè. Io già guardavo, mi ricordo tipo delle gemelline che avevano l'apparecchio, non mi ricordo il nome. Io guardavo molto loro, c'erano un po' di persone che guardavo e mi affascinava già da piccolo. Allora mi ricordo ai tempi avevo un Samsung S3 Mini che era proprio qualità inguardabile ai tempi e già provavo a giocare, facevo dei video così con mia sorella, anzi già facevo dei video con la videocamera che ogni papà ha per ricordo che magari mio padre la metteva, che ne so, ai cenoni di... Quelle delle feste di compleanno. Esatto, le feste di compleanno, Natale, così. Esatto. E mi ricordo che la prendevo, già mi ingegnavo con mia sorella, facevamo robe. Però sì, poi TikTok è arrivato, no, mi sono perso con la domanda, qual era? Come sei arrivato? Come sono arrivato su TikTok? Quindi ero più solo, no? Eh sì, da piccolo, no, già mi appassionava. Poi avendo avuto questo riscontro ho detto, vabbè, perché no provare anche su TikTok, dato che mi era sempre piaciuto e quindi ho cominciato. L'inizio pure lì è stato particolare perché poi ti trovi di nuovo a esporti, quindi di nuovo a essere soggetto al giudizio, però sinceramente me ne importava perché a me in qualche modo mi tocca il giudizio degli altri purtroppo, però ho sempre continuato, cioè credevo in quello che facevo e mi piaceva soprattutto, quindi... Sì, magari ero anche un po' cresciuto, quindi... Sì, ero più cresciuto, ero un po' più maturo, quindi un po' più cinico, esatto, magari dicevo volevo fare quello, oppure se uno mi dice una cosa, resta quella insieme. Esatto, riesci a... The Fouse, a questo punto, come ci sei arrivato e come l'hai vissuta anche? Allora, The Fouse nasce perché... Vabbè, io iniziai appunto questo percorso su TikTok e veni contattato dal mio attuale manager e all'inizio, tra l'altro, vabbè, lui è Vegas, lui è un personaggio anche riconosciuto sul mondo social, YouTube e quant'altro e io quando vedi il suo messaggio la mia prima reazione fu tipo da fanboy, perché io ho anche una foto con lui di un suo firmacopio di quando ero piccolo, quindi... Per me era più uno stupore a livello, insomma, come se mi avesse scritto una persona che stimavo piuttosto che un'opportunità lavorativa quindi io per una settimana neanche gli risposi, ma perché ero solo affascinato dal fatto che mi avesse scritto, fine senza guardare al fatto che lui mi avesse proposto delle cose, sì esatto, gli interessava e quant'altro al che poi parlando con un mio amico lui mi fa, frate ma stai bene, rispondi perché per farti capire quanto per me era un gioco, no poi, cioè perché è vero, io avevo riscontro mediatico, quant'altro, bla 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 avevo un po' di persone che mi seguivano, ma per me era ancora un gioco, cioè era puro cazzeggio un hobby, esatto sì, era proprio, non so se potevo dire questa parola sì, entrami c'è chi ha detto di più esatto ok, vabbè, io metto sempre le mani avanti no, e quindi appunto era puro hobby, esatto e poi da lì nacque il percorso The Fouse però prima ci sono stati degli incontri in varie ville in Italia e per vedere se noi tra i ragazzi con, perché vabbè The Fouse giusto per fare un quadro è una, è una, più che una content house, è un'academy dove venivamo messi più ragazzi insieme, provenienti da varie parti d'Italia per accrescere non tanto il numero dei follower, ma il bagaglio personale ok, era questo un po' il concept e quindi sì, abbiamo fatto questi incontri in queste ville per vedere se tra noi ragazzi combacevamo, cioè ci trovavamo bene, no sai e ci siamo trovati bene e da lì poi a ottobre del 2020 o 21 vabbè attorno a quegli anni è col Covid di me che abbiamo tutti perso la politica del tempo esatto, no, sai che sì, crea troppo disagio questa cosa del Covid esatto, no, no no, credo 2020 e 4 anni fa e da lì poi è iniziato così il progetto The Fouse sono tutti ragazzi a ottobre 2020 come, che ricordi hai di quell'esperienza lì? allora sicuramente molto atipico cioè nel senso particolare è una cosa che può succedere a poche persone per un breve periodo della vita ed è quello che è successo perché comunque otto ragazzi messi in un posto iperfigo perché comunque vivevamo in un bel posto tutti insieme quindi no, tutte le esperienze sia lavorative che personali che si incontrano quindi come esperienza molto particolare eravamo comunque no, dei ragazzi messi lì tutti insieme nello stesso contesto ma provenienti tutti da posti diversi quindi tradizioni diverse caratteri diversi quindi ci sta che col passare dei mesi andavano a fiorire parti del nostro carattere che magari si scontravano però poi piano piano abbiamo limato questa cosa quindi è stato crescendo una convivenza a tutti gli effetti sì esatto una convivenza a tutti gli effetti tra persone si sono lasciuti una convivenza a tutti gli effetti però poi andava cioè qui si andava anche a intersegare la retta diciamo del lavoro quindi eravamo come posso dire anche condizionati da questo aspetto quindi ci ha portato forse anche però a crescere il triplo cioè eravamo proprio in una bolla di ipercrescita perché poi ci confrontavamo quindi era tutto amplificato no? e quindi anche le emozioni sia quelle belle che quelle brutte quindi è come se è come se noi per noi quei tre anni siano stati dieci anni per una persona che ha vissuto la vita normale capito? quindi sì molto molto particolare come speriamo però bella perché oggettivamente è bella con tutte poi le sue sfaccettature chiaro come tutto però rifaresti? sì sì la rifarei perché mi ha portato a crescere a capire tante cose anche sul mondo del lavoro però sì la rifarei forse cambierei alcune cose magari dei miei atteggiamenti perché poi sono un po' particolare però però sì mi aggancio a questo al di là del del tuo ruolo tu effettivamente cosa ne pensi dei social cioè sai che poi adesso sono sotto la lente di ingrandimento sì 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 allora secondo me sono vabbò inutile dire che siano una scoperta diciamo incredibile ma perché può portare a conoscerti a farti conoscere tantissime tantissime cose ma anche a livello di informazione a livello culturale a livello di connessione tra persone capito? cioè può connettere tantissimo questa iperconnessione però può portare anche a dei lati ovviamente negativi perché essendo più facile il confronto è anche più facile la critica e quindi è come se fosse anche questo un portare all'esponenza la realtà cioè nel senso vai a a moltiplicare tutto ciò che accade nelle realtà perché la critica come il complimento lo ricevi anche nella vita reale però sui social appunto è tutto più accelerato più interconnesso e poi oddio è bello anche per il fatto che comunque voi non vuoi crea anche un lavoro per i giovani se vogliamo dire no? cioè nel senso può anche portare a nuove possibilità di lavoro quindi di aspetti positivi ce ne sono di aspetti negativi pure però se dobbiamo metterci a parlare sempre di quelli capito? diventa pesante però sì ci sono anche quelli quindi vanno gestiti vanno gestiti esatto però in linea generale secondo me i social sono un concetto molto positivo capito? cioè mi piace poi ripeto a me è sempre piaciuto sin da piccolo il pensiero di potermi esporre barra distinguermi quindi sì per me è stata proprio una chiave per la mia persona sei giovane? sì hai già sembra di hai già comunque un bel seguito sui social un lavoro sui social che sognai ancora nel cassetto da realizzare? allora io sin da piccolo vabbè faccio questo preambolo io quando ero piccolo feci tipo un casting ma all'età di due anni venni chiamato per fare un casting cinema però non venni diciamo preso perché non sapevo neanche parlare ancora cioè piacevo come ero staticamente però non sapevo neanche proferire parola certo che ci sta a due anni voglio dire è una delle probabilità però nei miei genitori si è innescata quella cosa poi figura da noi nel meridione è molto tipo portare in alto il proprio figlio quindi il mio figlio non sei una cosa già per tuo padre lo sei non hai mai fatto nulla riguardo al calcio già sei calciatore appena tocchi il pallone quel mood lì io ero un attore per loro senza aver fatto nulla ero attore e quindi loro mi hanno un po' sempre implementato questa cosa tu devi fare l'attore devi fare l'attore e quindi per me si era appunto autoinnescata e io mi ricordo già da piccolo cercavo casting ho fatto buttare soldi a mio padre perché magari dicevo babbo andiamo a Bologna ho trovato questa cosa questo casting poi vai a vedere era una truffa dove pagava 500 euro che mio padre pagava pure perché non ne capiva tanto e si fidava di me ma io cosa ne potevo a 10-11 anni io mi mettevo a cercare queste cose quindi quello che trovavo insomma e quindi mi è sempre piaciuto un po' il mondo anzi scusi uso queste due cose per lanciare un warning guardate sempre esattamente quello che questi contest o comunque queste opportunità vi prospettano sicuro perché poi di base a quanto per quanto io ne sappia sia nel mondo moda che nel mondo attoriale i casting non prevedono mai un pagamento iniziale è così è così quindi vabbè e quindi appunto a me piaceva il mondo del cinema e tramite quello poi perché io andai a interfacciarmi con un'agenzia di Roma a livello cinema ed è questa che mi propose il casting per fare i reality ma poi i reality mi ha portato sui social ed ora mi trovo un po' esatto ed ora mi trovo un po' in un periodo dove come se volessi continuare questo cerchio e anche perché poi come persona cioè a me piace cambiare io necessito di cambiare altrimenti restare troppo statico mi mi rigidisce un po' e quindi sono un po' in una fase dove vorrei proiettarmi di nuovo quindi tornare magari sui miei vecchi passi e rivedere un po' quel mondo poi io comunque in questi anni durante i social ho conseguito dei corsi di musical quindi è una cosa che ho sempre coltivato e magari in leva minore cioè meno frequentemente o quantomeno il pensiero finiva meno su quel mondo lì per ora sì sto un po' su quei passi diciamo quindi alla fine mamma e papà comunque un po' di ragione te la tenono magari poi per ora esatto sì sì esatto poi sì per ora è tutto ancora un mio la mia proiezione mentale però vediamo un attimo prossimamente cosa succederà entrando nel concreto i tuoi progetti proprio per il futuro a breve e a breve allora si possono dire no si si no ma di base c'è a livello concreto è quello cioè vorrei proprio ultimamente mi stavo informando su scuole di recitazione qua a Milano anche se poi Milano non è proprio sarebbe meglio andare a Roma per questo tipo di percorso però sì proprio a breve la mia intenzione era che solo che stiamo in un periodo dell'anno dove i corsi già sono sono full quindi iniziano a ottobre e questo poi vabbò sì al di là dei miei contenuti editoriali per TikTok però sì quello era un attimo la mia la mia proiezione attuale insomma sì 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 bello è anche bello sentire che comunque vuoi arrivare al cinema ma comunque passando per devo formarmi devo fare certo no no certo certo non è scontato poi sì 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 no no assolutamente cioè io sono sempre stato di questa visione per quanto poi uno possa avere magari il talento io poi non sto dicendo che io ne abbia però sì forse a volte è più importante il tempo che ci spendi sopra piuttosto a quello che puoi essere tu nel senso che c'è una frase che fa l'ossessione batte il talento no quindi se ti ossessioni probabilmente puoi raggiungere cose che senza ossessionarti ossessionartici non so e magari non ci arrivi capito anche perché anche il talento va coltivato quindi sì 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 cioè se resti fermo il talento resta fermo insieme a te insieme a te chiaro chiaro perfetto va bene ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio per i tuoi progetti grazie mille grazie mille